I parenti degli ospiti continuano ad attendere le visite fuori dalla RSA di Clusone. Oggi alcune persone hanno ricordato l'importanza di questi incontri. Strada del Passo del Vivione, ancora problematiche sul versante Bresciano, la delusione del primo cittadino di Schilpario, Marco Pizio. Cerete ultimo giorno di scuola al parco, per i ragazzi di Quinta gli elementari non finiscono in sordina. Buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Antenna 2. Intervento di un'ambulanza dell'Associazione di Volontari Pisognese di Santa Maria Assunta questa mattina intorno alle 10.15 a Marone. Soccorso un uomo di 76 anni caduto dalla bicicletta. L'episodio è avvenuto in Via Ponzano. L'uomo è stato trasportato in Codice Verde in ospedale a Lovere. E passiamo ai dati di Regione Lombardia sulla diffusione del coronavirus. I tamponi effettuati sono 13.696. I nuovi casi positivi 142. 1,04 il rapporto con i tamponi giornalieri. Attualmente i positivi sono 19.499, meno 354. I guariti 469 in terapia intensiva, meno 10. I ricoverati non in terapia intensiva, meno 120. I decessi 27. Il totale complessivo dei decessi 16.249. I dati per provincia relativi ai casi positivi al coronavirus in provincia di Bergamo 13.551, più 12 ieri l'aumento era stato di 73 unità. In provincia di Brescia complessivamente 14.988, più 18 ieri l'aumento era stato di 89 casi. E nei giorni scorsi vi abbiamo parlato della situazione delle case di riposo che, temendo per la salute dei propri ospiti, in attesa dei protocolli della regione, hanno frenato le visite dei parenti. I documenti del Pirellone continuano a farsi attendere. Forse potrebbero arrivare nella giornata di lunedì. La Fondazione Sant'Andrea di Clusone, nei giorni scorsi, tuttavia, ha avviato la pianificazione di visite in sicurezza, mettendo in calendario alcuni incontri. Importanti sia per gli ospiti, sia per i parenti, ricorda il direttore sanitario della RSA, Baradella Guido Giudici. Per sottolineare il valore delle visite dei parenti, oggi pomeriggio fuori dal cancello della RSA di Clusone, si sono radunate alcune persone con toni educati e amichevoli, hanno parlato con il direttore sanitario della struttura, che ha dichiarato tutti gli ospiti e tutto il personale risultato negativo ai test del tampone. Non possiamo rischiare la salute delle persone che si trovano nella struttura, ma stiamo lavorando per trovare una soluzione che consenta le visite in sicurezza. Oggi pomeriggio fuori dalla casa di riposo c'eravamo anche noi e abbiamo raccolto le emozioni dopo la visita con la debita di stanza fisica di una donna che ha rivisto il marito in occasione del sessantesimo anniversario di matrimonio. Di fatto la prima visita con cui è stata testata l'operatività presso la struttura. Sono Sonia Del Soldato e questa è mia mamma. Pioravano Anna. Siamo appena usciti da una prima visita in quanto la mia mamma tra pochi giorni insieme a mio papà festeggiano 60 anni di matrimonio e quindi ci è stato concesso di vedere in anteprima mio papà. È stata un'emozione fortissima da gestire e vedere per me mio papà, e per mia mamma suo marito è veramente da gestire, è un'emozione fortissima perché poi non lo puoi abbracciare, lo capisci, ma è forte, è un'emozione veramente forte, vero mamma? Sì, sì. Io ringrazio tutti che mi hanno fatto vedere mio marito che festeggia i 60 anni. Grazie. Con lei oggi era qui fuori insieme ad altri parenti di ospiti e avete chiesto alla struttura di poter vedere il prima possibile i vostri cari. Sì. Questo è un po' il messaggio, cioè che il prima possibile il mondo delle case di riposo si riattivi. Si deve riattivare per forza perché noi come loro abbiamo bisogno entrambi, noi di rivedere i nostri parenti e loro di rivedere noi come sostegno morale, perché come diceva appunto un'altra parente, ogni attimo è un attimo in più che ci viene regalato, quindi dobbiamo assolutissimamente sfruttare ogni momento. E quindi riapriamo presto queste case in sicurezza, che la regione faccia qualcosa, che si muova a metterci in sicurezza, che ci muova a rifarci rivedere i nostri parenti. Non possiamo rimanere con un pezzo in meno della famiglia. Ecco, già ci sono stati troppi morti. Il mondo piange, smettiamola di piangere altre vittime invece adesso dell'abbandono. Basta. E oggi lei era anche pronta, un'azione anche forte, pur di arrivare a questo risultato. Io ero pronta a legarmi alla recinzione di Sant'Andrea come segno di vicinanza a mio papà. Cioè nel senso io mi legavo a mio padre perché volevo vedere mio padre. Questo era il mio intento rispetto a quell'azione che volevo fare. Non l'ho fatta perché sono arrivate dei messaggi che ci avrebbero fatto rivedere i nostri ospiti. E oggi comunque ho avuto la fortuna, ma grazie al fatto che comunque c'erano 60 anni di matrimonio, me l'hanno detto solo in via eccezionale, ho rivisto il mio papà. Grazie. Io ho una mamma in struttura Sant'Andrea e chiedo di far presto a deliberare, ad avere dei protocolli sicuramente in sicurezza per la situazione. Però per quanto mi riguarda e per quel che riguarda mia mamma, ogni momento è un miracolo, nel senso che ha una fragilità particolare e chiedo che si muovano con le da libere e in sicurezza di formulare anche dei protocolli specifici appunto per la struttura, per la logistica della struttura, per gli allettati, come appunto nel mio caso, nel caso di mia mamma. Noi abbiamo preparato come parenti degli allettati, ci è stato chiesto di preparare test sierologici e tampone. Quelli ci sono, mia mamma è negativa al tampone, per cui direi che la situazione è abbastanza sotto controllo, logicamente senza mai abbassare la guardia perché logicamente, primo, sono persone fragili, secondo, il virus c'è ancora e non possiamo dire di no. Ecco, dottor Giudici, qui oggi alcune persone hanno fatto sentire la loro voce parenti di ospiti che vogliono rivedere i loro cari, e voi? Allora, per così venire in conto le loro esigenze, già noi, già tre settimane, abbiamo approntato tre postazioni fuori dai reparti per far incontrare i parenti con i loro cari. Tranne che la Regione non ha fatto la deriva, è aperto, ha sempre vietato l'accesso all'RSA. Quindi noi abbiamo approntato fuori dall'RSA, fuori dalla struttura in maniera tale, e abbiamo calendarizzato, e la coordinatrice sta terminando di dare gli appuntamenti a tutti gli ospiti in maniera tale da avere una situazione già programmata. Chiaramente è un po' che insistono e hanno anche ragione, perché i loro non li vedono da due o tre mesi, non sanno com'è la situazione attuale. In definitiva è umano ed è giusto che li vedano, anche perché ha meno problemi a noi il fatto se i parenti incontrano i loro cari, perché hanno poi meno problemi anche comportamentali e psicologici. Quindi noi se incontrano i parenti abbiamo meno crisi depressive, crisi di abbandono. Quindi abbiamo tutta una serie di... Quindi noi adesso è tutto calendarizzato e ai giorni precisi, con ore precise, hanno la possibilità di incontrare i loro cari. Lo scorso 26 maggio in Regione Lombardia è stato approvato all'unominità il progetto di legge numero 53, con il quale è stato istituito il PEBA, il Piano di Abbattimento delle Barriere Architettoniche. Con l'approvazione il consigliere di Cambiamo, Paolo Franco, ha portato un ordine del giorno che ha ricevuto l'ok. Sentiamolo. E resta sempre alta l'attenzione verso il tema delle barriere architettoniche, l'abbattimento delle barriere architettoniche. Diciamo che la scorsa settimana abbiamo approvato un provvedimento di legge proprio che va nella direzione di implementare la possibilità di realizzarla e anche misurare chi aveva detto che le doveva fare, quindi nelle amministrazioni pubbliche, e poi magari nella realtà non ha potuto portare a termine. Con questa nuova normativa viene introdotto il registro PEBA, che è il registro elettronico dell'abbattimento delle barriere architettoniche che ogni comune dovrà compilare e che verrà monitorato dalla regione anche nei tempi di attuazione. Quindi come garanzia di validazione di un processo che deve essere per forza erogato. Dall'altra parte ci sarà la possibilità di avere dei finanziamenti proprio anche per quelle attività di tipo privato che prevedono l'abbattimento. Quindi è vero che è obbligatorio, ma anche la possibilità di avere dei finanziamenti per poi poterli realizzare e non da ultimo verrà anche tutta una considerazione per tutte quelle attività turistiche, quindi quei bandi che dovranno in qualche modo sostenere il rilancio dell'economia, privilegiare coloro che prevedono l'abbattimento delle barriere architettoniche. Il tutto è ovviamente per andare a finalizzare una maggiore implementazione dell'attuazione di queste opere. Il sottoscritto inoltre ha portato un ordine del giorno che è stato provato alla maggioranza, che è stato quello di incentivare poi le risorse dentro questo posizionamento di legge, perché poi senza le risorse non si va da nessuna parte, oltre anche ad aver fatto in modo che all'interno delle commissioni che devono valutare i bandi ci sia la formazione necessaria portata avanti dalle associazioni che vivono questa non completa capacità di mobilità tutti i giorni e che hanno la sensibilità e la capacità di analizzare e valutare se quell'opera di abbattimento architettonico è realmente efficace ed efficiente. E questo è un traguardo importante perché quindi chi giudica ha la capacità di capire se poi quello che verrà fatto è funzionale o meno. Questo è un momento di diverse riaperture, emergono evidentemente delle difficoltà, ci sono anche delle misure a sostegno di alcuni settori. Diciamo che abbiamo fin da subito, ormai da due mesi, che abbiamo cercato come Regione Lombardia là dove c'è la possibilità di far ripartire anche attraverso degli investimenti e mettendo a disposizione delle risorse. L'abbiamo fatto prima con i comuni, con un progetto di legge che è diventato legge con oltre 3,3 miliardi distribuiti su due anni per tutte le amministrazioni comunali e in questo momento qua solicitiamo tutto il mondo del commercio attraverso la disponibilità di 22 milioni di euro per i distretti del commercio che sono quei distretti che sono molto funzionali anche a riprendere la tipologia delle attività locali e come anche sui nostri territori che molto fanno per fare sinergia di rete attraverso tutte le attività commerciali e partecipando a questi bandi avranno a disposizione maggiori finanziamenti per poi fare una serie di iniziative sia collegiali sia mirate che aiutano anche a riportare all'interno delle attività commerciali tutta una serie di clienti e di attività economiche necessarie per il loro sostentamento. Si fa ancora attendere l'apertura del Passo delle Vivione si sale da Schilpario fino al Rifugio sul lato bergamasco ma persistono problematiche su quello bresciano. Già l'estate scorsa il transito non era stato riaperto nella sua completezza. Sentiamo il sindaco di Schilpario Marco Pizio. Le vicende legate al Passo delle Vivione sembrano ormai quelle di una telenovela. È vero, il Passo del Vivione per la Valle di Schilpario in particolare continua a costituire un importante apporto turistico e l'abbiamo visto nello scorso weekend quando ancora col passo chiuso molti motociclisti cercavano di transitare. Quindi in questa settimana ho intrattenuto parecchi rapporti con i funzionari della provincia di Bergamo e anche con il presidente e abbiamo fatto i salti mortali per poter aprire il passo dal versante bergamasco e in effetti da ieri il passo è transitabile da Schilpario fino al passo del Vivione. Purtroppo, come una doccia fredda, è arrivata la notizia che sul settore bresciano ci sono ancora delle problematiche di tipo istituzionale di rapporti tra i vari enti, la provincia, la comunità montana e i comuni interessati dal versante bresciano e quindi quel tratto di strada, seppur transitabile perché la strada in effetti è pulita ed è a posto non è ufficialmente aperto e questo ci comporta notevoli preoccupazioni. Quindi di fatto c'è delusione? Sì, perché contiamo molto sul transito e già sapevamo di non poter contare quest'anno sul transito da parte degli stranieri, dei tedeschi, motociclisti anche con la bicicletta per le note vicende legate a coronavirus però puntavamo molto sui motociclisti lombardi e a questo punto anche dell'Alta Italia e in effetti questi non hanno tardato a presentarsi solo che il passo purtroppo noi non lo possiamo mettere a disposizione a pieno titolo e quindi farei un appello a tutte le istituzioni di tener conto di questa situazione che per noi è importante usciamo anche da un periodo difficile dal punto di vista anche economico e quindi contavamo molto su quello che poteva darci dal punto di vista turistico questa infrastruttura presente sul territorio. E ora ci spostiamo nella bassa Valle Camonica a Rogno l'amministrazione comunale ha avviato alcuni interventi nel frattempo circa il 90% delle attività commerciali sul territorio aria aperto Le attività sulle territorie, le attività commerciali sono ripartite? Quasi tutte? Diciamo che l'85-90% delle attività di Rogno sono ripartite, naturalmente tipo i ristoranti i locali stanno soffrendo perché naturalmente con le restrizioni dovute alle normative i posti sono meno e anche la gente è ancora un po' diffidente andare in luoghi pubblici però stanno ripartendo e sono in sofferenza le nostre attività sportive le palestre soprattutto e anche le nostre scuole materne che naturalmente soffrono di questa chiusura prolungata nel tempo però ecco, diciamo che tante attività sono ripartite e aspettano i nostri cittadini per far sì che riparta tutto l'indotto economico Nel frattempo voi avete messo in moto alcune opere? Beh sì, fondamentali il Comune di Rogno ha fatto partire il bando del verde perciò buona parte della strada è già stata tagliata dalla cooperativa al Piccolo Sentiero la nostra straordinaria protezione civile che sta facendo la pulizia di tutti i reticoli idrici minori e secondari oltre a vari luoghi di aggregazione verdi e in più anche tante altre opere nel mese di luglio e giugno verrà asfaltata a buona parte delle strade, delle buche che ci sono in paese verrà rifatta parte della segnaletica orizzontale posati dei nuovi ripari stradali questo è molto importante per la sicurezza della nostra zona e in più verrà finalmente ultimata nel mese di luglio la Rotonda della Rondinera un'opera realizzata penso ormai un anno e mezzo fa e non è mai stata finita la parte diciamo estetica perciò la posa di fiori, l'irrigazione, il verde curato adesso grazie a una convenzione con tre ditte private e una parte il Comune nel mese di luglio verrà ultimata anche questo è il biglietto da visita e l'ingresso diciamo del Comune di Rogno verso Costa Volpino e sarà un'opera che andiamo ad ultimare a partire da lunedì 8 giugno i centri per l'impiego riapriranno per il ricevimento dell'utenza esclusivamente su appuntamento inizialmente per due tre giorni la settimana nella fascia oraria dalle 9 alle 16 e poi progressivamente su cinque giorni alla settimana gli uffici sono rimasti chiusi al pubblico dallo scorso 24 febbraio e il personale ha continuato a lavorare da remoto espletando le richieste pervenute tramite mail i giorni di apertura su appuntamento potranno variare nei vari centri in considerazione dalla presenza rotazione degli operatori rese necessarie dalle norme anticontagio in ogni caso per la prenotazione degli appuntamenti si potrà contattare il centro per l'impiego competente per il territorio tramite email o tramite contatto telefonico negli orari di attività e l'anno scolastico a Cerete non finisce in sordina per i 12 bambini di quinta elementare che questa mattina hanno avuto l'occasione di rivedersi dal vivo un momento carico di emozioni anche per le maestre che hanno preparato un video con cui salutare i loro bimbi ecco dopo tanto tempo per la comunità di Cerete questo è il primo momento di festa la prima festa sì e per questa prima festa abbiamo scelto di festeggiare i bambini e quindi il futuro della nostra comunità era assolutamente impensabile non organizzare qualcosa per loro visto che da settembre lasceranno Cerete a livello ovviamente di istruzione perché il loro percorso proseguirà a rovetta la scuola secondaria e quindi abbiamo deciso di organizzare questo piccolo momento di condivisione che non sarà una festa come siamo abituati a conoscerle ma sarà solo un momento per guardarsi negli occhi e salutarsi visto che da mesi non si incontrano anche gli insegnanti hanno scelto di esserci e questo ci fa davvero piacere e ovviamente un ringraziamento va alle associazioni del territorio che ci hanno aiutati con l'allestimento che non è stato semplice perché dovremmo anche vedere un video in un parco in pieno giorno quindi abbiamo dovuto ingegnarci un po' però li ringrazio tantissimo perché sono sempre presenti e ci aiutano sempre ecco il tutto seguendo ovviamente delle indicazioni per uno svolgimento in sicurezza sì le regole sono quelle base quindi all'ingresso abbiamo i nostri alpini che misurano la temperatura e chiedono a tutti di disinfettare le mani all'interno gli spazi sono stati suddivisi con degli hula hop messi sul prato erboso in modo da consentire a tutti i bambini di stare comodi ma di mantenere le distanze e la stessa cosa viene chiesta a tutti i genitori che sono sistemati dietro ai bambini abbiamo ieri ho mandato un video a tutti i ragazzi nel quale spiegavo come chiedevo che ci si comportasse oggi e devo dire che per ora sembra che tutto stia filando liscio quindi siamo decisamente felici di aver scelto di organizzare questa iniziativa e anche questa sera prendiamo il polso delle attività economiche sul nostro territorio questa sera ci occupiamo del mondo delle automobili e come sta andando il settore dell'auto? ma dopo due mesi di stop completo alle matricolazioni alle consegne tra l'altro nei mesi per noi diciamo più forti relativamente al bilancio annuale sembra che stia riprendendo gente ne gira sono interessati chiedono per eventuali incentivi queste cose c'è un po' più di stop sui commerciali perché le ditte hanno subito una bella battuta dal resto e questo si dispiace di più perché per le macchine ecco questo sicuramente e per quanto riguarda invece gli incentivi? beh gli incentivi forti li fanno ormai da tempo le case automobilistiche perché il governo da anni non fa nulla non lo può fare anche per disposizioni europee la regione aiuta con qualche incentivo a fronte di rottamazione sui bolli si vocifera di qualche incentivo però per adesso è stato smentito tutto cioè gli incentivi ci sono ma da parte delle case e tutte le case le fanno e anche forti il lockdown ha modificato qualche tendenza sta favorendo qualche tipologia di auto a scapito di altre? ma a quanto risulta a noi no la richiesta è aumentata sulle motorizzazioni benzina a scapito di qualche diesel va bene l'ibrido l'ibrido è molto richiesto e le case lo spingono l'elettrico praticamente inesistente ma non c'è richiesta su questi su questi veicoli e con il lockdown probabilmente però ha rallentato la filiera produttiva e sì abbiamo ritardi nelle consegne delle vetture perché le fabbriche hanno sospeso non per tanto tempo ma hanno avuto problemi nell'approvvigionamento del materiale e quindi siamo un pochino in ritardo sull'inevaso contiamo però di recuperare abbastanza in fretta perché adesso stanno lavorando a pieno ritmo per cui si spera di riportarci in pari almeno con l'inevaso sono state fatte anche alcune proposte ai vari governi per cercare di favorire il vostro settore beh sì è un settore in sofferenza ma comporta sofferenza anche alle casse dello Stato per cui la nostra richiesta da anni come concessionari è il ripristino dalla detrazione dell'IVA per le auto aziendali che smuoverebbe non poco il mercato il recupero eventualmente degli interessi passivi sui finanziamenti come avviene per le spese sanitarie o queste cose è cosa che sarà difficile ma in Germania l'hanno fatto una diminuzione dell'IVA del Germania dal 19 al 16 noi abbiamo il 22 più tutte le altre imposte che comportano un quarto di macchina sarebbe un bel segnale un abbassamento anche di queste imposte in Germania hanno fatto gli incentivi solamente per le auto elettriche e hanno lasciato fuori tutti i motori termici qui sarebbe insensato un incentivo del genere è meglio agire sulla tassazione però sappiamo che è un argomento vecchio e duro da affrontare e per quanto riguarda le sanificazioni delle automobili le vetture che vengono ricoverate in officina vengono tutte ricoperte con i dispositivi sia i sedili che il leveraggio che il volante freno a mano prima di essere consegnate al cliente vengono sanificate e sigillate fino alla consegna in modo che il cliente è sicuro che non sia salito più nessuno dal momento dell'igienizzazione che viene fatta con germicidi presidi medici chirurgici non con l'ozono perché l'ozono non è consigliato nelle vetture ma vengono usati questi dispositivi germicidi che i fungicidi previsti dal ministero della salute e ora continuiamo con la programmazione televisiva questa sera sul canale 88 alle 21 trasmetteremo S4 Sport Outdoor alle 21.45 la rubrica religiosa Mano Nubiscum alle 22.10 la rubrica di medicina Salus TV alle 22.30 la seconda edizione del nostro telegiornale alle 23.20 la rubrica più salute news e alle 23.35 la rubrica 15 minuti alla mezzanotte e mezza la terza ed ultima edizione del nostro notiziario il telegiornale di Antena 2 tornerebbe in onda anche alle ore 21.30 ma sul canale al numero 218 delle digitali terrestri sul canale sportivo al numero 628 alle 20.30 trasmetteremo Antena 2 Sport a cura di Elisa Cucchi mentre alle 21.30 la rubrica di sport Hard Track al Manacco per domani domenica 7 giugno il sole sorge alle 5.25 tramonta alle 21.14 il culmine è alle ore 13.19 la durata del giorno è di 15.49 la luna sorge alle 23.7 e tramonta alle 7.48 di lunedì la fase monale la luna è calante ed è visibile all'85% la chiesa celebra la Santissima Trinità e con questo è tutto vi ricordiamo che a seguire vi saranno le previsioni del tempo a cura del nostro Matteo Lacavalla grazie e buon proseguimento di serata a tutti e buon proseguimento